Ciao a tutti amici del Tassello, siamo con Marco Bologna, terzo classificato alla prima gara di campionato regionale Enduro Sicilia 2018. Hai iniziato benissimo questo campionato Marco e abbiamo visto che i tuoi impegni italiani ti hanno... Sicilia oggi è stata una bella gara, nel mio progetto è una di assoluti, una di under, sotto il fango, sotto la neve, oggi ho i terreni quasi asciutti. Il cross test mi è piaciuto molto, anche se è un po' corto, però abbastanza guidato, a tratti veloci, a tratti tecnico, mentre la linea un po', forse è troppo veloce per i miei gusti. E questa nuova moto ti sta dando soddisfazioni quindi? Sì, bisogna lavorarci, ci abbiamo lavorato e ci vuole ancora tempo, rispetto al 125 è sicuro più facile, ti permette di fare cose che con quella non potevo fare, però... Ciò allenamento per tenerla tutta la gara, ecco. Comunque oggi è stato totalmente bravo, noi ti rinnoviamo i complimenti e vogliamo che mandi anche lui in bocca al luco a Eros. Certo. Perché manca questo campionato. Dai dai, aspettiamo subito, dai alla prossima, speriamo che sei già presente dai. Ciao Eros, ciao amici del tassello. Grazie a tutti. Grazie a tutti.